A 1.30 della scorsa notte i carabinieri della stazione di Fermignano sono stati chiamati per un intervento molto delicato in una situazione che poteva rapidamente degenerare. Un uomo anziano di 81 anni è salito sul tetto della sua abitazione, una palazzina di due piani, minacciando di lanciarsi nel vuoto da un'altezza di oltre 15 metri. A dare l'allarme la stessa badante che acudisce l'anziano che nel cuore della notte è stata tirata dalle stesse urla dell'uomo. I militari arrivati sul posto hanno trovato l'anziano pericolosamente sul cornicione del palazzo, in evidente stato di agitazione. A quel punto hanno dovuto far ricorso a tutto il sangue freddo e la professionalità per cercare di far degenerare la situazione, instaurando un fitto dialogo con l'uomo che minacciava in ogni momento di volersi buttare giù, cercando però di cogliere la filuccia dell'ottantunenne. Momenti di grande apprensione ma dopo lunga trattativa, approfittando di un momento di distrazione dell'anziano, uno dei militari intervenuti sul posto ha afferrato l'ottantenne strappandolo così a una pericolosa situazione. Sul posto anche i vigi del fuoco di Urbino e un'ambulanza del 118 con medico a bordo che ha subito prestato i primi soccorsi all'uomo una volta messo in sicurezza.